Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, riaccoci qui, ore 13.30, torniamo a parlare insieme di Fantacalcio. Grazie a tutti voi per i messaggi di questi giorni, vale tutto quello che vi ho già scritto nel post su youtube e sulle altre piattaforme. Grazie davvero, le cose piano piano sembrano migliorare, quindi oggi torniamo a parlare di calcio e di Fantacalcio e andiamo ad analizzare tutte le partite di questo dodicesimo turno di campionato. Un dodicesimo turno che partirà sabato, quindi come sempre oggi andiamo appunto a fare l'analisi di tutte le partite, oggi pomeriggio ci vediamo su Stadeo per una chat room dedicata ai consigli di formazione su Instagram. Vi metterò l'orario, domani invece tornano le due top 11, come avete visto da Instagram la settimana scorsa, sono un po' cambiate, non faccio più top 11 certezze e top 11 underdog, troppo facile consigliarvi certi nomi nella top 11 certezze, ma avremo top 11 underdog resto del mondo, top 11 underdog Italia. La settimana scorsa i nomi sono andati piuttosto bene, domani cercheremo di fare ancora meglio e poi ovviamente domani e sabato mattina, a meno di imprevisti, tornano le live sia qui sia sulla piattaforma Viola per i vostri consigli di formazione. Ma adesso partiamo, prima di continuare mi raccomando se non l'avete ancora fatto, like al video, iscrivetevi qui sotto che è gratis, andiamo a vedere le dieci partite di questo dodicesimo turno di campionato. E partiamo proprio da Napoli Sassuolo, che sarà la prima partita di questo turno. Ed è importante, a volte viene sottovalutata questa cosa del primo match, ma conoscere già la formazione ufficiale, soprattutto di quelle squadre che questa settimana sono state impegnate in Europa, è fondamentale. Ci permette infatti di capire con assoluta certezza chi sarà titolare e chi no. E questo, per tutti quelli che hanno dubbi, perché hanno magari un po' di jolly a centrocampo, o perché hanno dei cambi limitati, o perché non hanno il cambio modulo, è fondamentale. Quindi, al momento, la Gaza qua ci dice Ossimen, Varascheli, Appolitano, ma attenzione, perché comunque c'è Simeone che scalpita, c'è Raspadori. Diciamo che qui, la cosa da dire è che in questo momento il Napoli è una squadra abbastanza ingiocabile per tutti, nel senso che sta andando a mille, sta esprimendo un ottimo calcio sotto tutti gli aspetti, e in ottica fantacalcio, che poi è quello che interessa a noi. Ci sono tanti nomi su cui puntare assolutamente ad occhi chiusi. Faccio prima, magari, a dirvi quelli che vedo meno da bonus in questa squadra. Allora, diciamo che, parlando dell'attacco, oggettivamente non vedo nomi da sconsigliare, sia nei cosiddetti titolari, sia su chi magari partirà dalla panchina, sono tutti nomi che possono entrare e fare bene. In mezzo al campo, forse i due nomi che in questo momento mi danno meno garanzie di andare a bonus sono Don Belè e Lobotka. Attenzione, non sto dicendo che sia impossibile, ma rispetto a uno Zielinski o ad altri nomi che potrebbero giocare. Sono due che non vedo così facilmente andare a segno. In difesa, invece, Olivera è un nome che mi piace, sta crescendo. Certo, fa sempre qualche errorino, lo abbiamo visto anche nella scorsa giornata di campionato, però poi in qualche modo sa rimediare e, in fase offensiva, a differenza di Mario Rui, che è un altro tipo di giocatore, offre probabilmente qualche soluzione in più. Se avete notato, spesso Olivera, partendo da sinistra, va a fare il taglio centrale, il taglio in mezzo, per andare a creare il proprio spazio sulla fascia per Varraschelia. Questa è una cosa importante dal punto di vista tattico. Io credo che, anche se fin qui Mario Rui si è sicuramente meritato il posto da titolare ed è uno dei fedelissimi di Spalletti, come dicevamo quest'estate, occhio a pensare che Olivera sarà titolare fin da subito, infatti fin qui non lo è praticamente quasi mai stato, però credo che, soprattutto con l'andare avanti del campionato, la presenza di Olivera dall'inizio o a partita in corso possa permettere ancora di più al Napoli di valorizzare Varraschelia. Questo perché, un po' come accade nel Milan, con Teo che parte da terzino, taglia in mezzo e crea lo spazio a Leao sull'esterno, la stessa cosa potrebbe succedere tra Olivera e Varraschelia. Juan Jesus, tante cose buone, alcune cose meno buone, è un nome schierabile ma ovviamente non quanto un Kim o non quanto un Di Lorenzo che sta continuando a fare bene, giocatore costante, giocatore che può sempre portarvi un bonus a sorpresa, quindi assolutamente garanzia. Meret, schierabile, in questo momento ci sono top che magari mi convincono un po' di più, ma comunque schierabile. Nel Sassuolo, nel Sassuolo frattesi sembra strano ma ormai io credo che sia un nome da schierare praticamente sempre. A inizio campionato gli ho detto che per me con i suoi inserimenti, con la sua presenza nell'area avversaria, poteva anche essere un giocatore da 6, 7, 8 gol, direi che siamo sulla buona strada. Non mi convince assolutamente la difesa del Sassuolo, soprattutto a Napoli, io andrei a evitare totalmente i quattro difensori e anche lo stesso Consigli, è vero, Consigli potrebbe prendere 7 perché fa tante parate, però se prende 7 e poi me ne prende 3, allora eccoli che magari ci sono scelte migliori. Davanti nel Sassuolo vedremo se effettivamente tornerà Berardi, potrebbe anche essere ancora risparmiato, anche perché poi i prossimi quattro impegni saranno quattro impegni ravvicinati. Faccio fatica a trovare dei nomi che possano incidere allo stadio Maradona. La Oriente sta bene, è un giocatore che sta continuando a crescere, però diciamo che, tolto forse frattesi, non vedo nomi da schierare a prescindere in casa. Sassuolo pronostico, Napoli ovviamente nettamente favorito, il Sassuolo farà la sua partita però credo davvero che possa appunto vincere nuovamente la squadra di Spalletti. Arriviamo poi a Lecce-Juve, una Juve eliminata dalla Champions, una Juve che molto probabilmente dovrà fare a meno di Dusan Vlaovic. A livello di gioco questo non penso che andrà a cambiare molto, le idee e lo schieramento di Allegri potrebbero giocare Ken e Milik lì davanti. Quadrado sta continuando a fare alcune cose positive in ottica fantacalcio, penso ai due assist della scorsa giornata, ma anche alcune cose, anzi più che alcune cose negative in ottica calcistica, continua a non convincere, probabilmente siamo arrivati un po' all'inizio della discesa di prestazioni di questo giocatore che comunque è un giocatore che inizia anche lui ad avere i suoi anni, Costici invece potrebbe in qualche modo incidere. Sarà però interessante vedere se Lecce da quella parte si andrà effettivamente a schierare con Baschirotto terzino o se invece Baroni andrà a cambiare qualcosa. Credo però che la Juve possa soprattutto sfondare da quella parte. Rabiot, sembra strano, ma in questo momento è uno degli uomini in più o comunque uno degli uomini su cui puntare maggiormente. La nota positiva in ottica fantacalcio però da sottolineare è finalmente il risveglio in chiave bonus di McKennie. Come sapete ho sempre detto che McKennie per me è un giocatore che al fantacalcio ha il potenziale davvero per fare tanti tanti gol ma che in questa Juve non veniva valorizzato abbastanza. Finalmente anche grazie al suo ritrovato stato di forma sta iniziando a fare quello che sa fare. Quindi nomi come McKennie, come Danilo, lo stesso Milik e anche un Locatelli che piano piano sta continuando a crescere, mi è piaciuto anche molto. Nelle ultime giornate 7, la scorsa giornata senza bonus, sono i nomi su cui punterei assolutamente di più. Dietro difesa 3, Bonucci diventa schierabile. Potrebbe giocare per in, anche lui schierabile ovviamente in questo match. Nelle Lecce, nomi su cui puntare. Oltre allo scontato strefezza, si se, se non siano grosse alternative, può diventare un fattore, così come può diventarlo anche Bandà. È ovvio che Bandà, l'istato attaccante, faticherà sempre a trovare uno slot vuoto nel vostro attacco. Hulman, se vi serve un regolarista dal voto più o meno assicurato, può fare al caso vostro. González è un po' un azzardo, però anche qui ovviamente dipende dalle alternative. Pronostico, penso che la Juve possa continuare questa mini striscia positiva almeno in campionato, anche perché ormai fuori dalla Champions il campionato resta l'unico vero grande obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri. Inter-Samp con Stankovic che ritrova la sua squadra. Allora, Inter ovviamente favorita e Inter che penso andrà a fare i tre punti. Occhio però a dare per scontato che l'Inter andrà a fare una goleada, perché se andiamo ad analizzare le ultime partite della Samp di Stankovic, andiamo a vedere come a Bologna si è finita un a uno, con la Roma abbia perso ma solamente di un gol e l'ultima partita con la Cremonese ha vinto senza subire gol, grazie anche ovviamente ad Audero. Questo vuol dire che la Samp non è guerrita, ma se c'è una cosa che almeno fin qui Stankovic ha portato è una solidità difensiva anche un po' ritrovata. Forse grazie anche alla presenza di un giocatore come Amione che fino a qualche settimana fa molti non sapevano neanche esistesse, ma in questo momento ha dato delle risposte interessanti. Ovviamente non credo che qualcuno di voi abbia Amione al fantacalcio, però è uno di quei nomi da osservare, magari da valutare all'asta di riparazione a febbraio. Nell'Inter però c'è un altro risveglio, finalmente il risveglio di Mkhitaryan. Mkhitaryan, un po' con il gol fortunoso della scorsa giornata, un po' con il gol in Champions, sta ritornando quel giocatore di cui abbiamo tanto parlato su questo canale quest'estate, dove vi arrivai a dire che i due jolly migliori quest'anno erano Mkhitaryan a centrocampo insieme ad altri nomi, ma Mkhitaryan era il nome veramente jolly da prendere al 3, massimo 4%, e Orighi del Milan di cui parleremo dopo. Cialanolu, anche da regista, resta comunque una garanzia. Barella ormai si schiera sempre e comunque, al di là dei nomi scontati, Di Marco, nonostante la scorsa giornata non abbia fatto bene e abbia rischiato anche il rosso, si può assolutamente mettere, ho un nome su cui punterei, Onana, idem. Se devo dirvi un paio di nomi che non mi danno tantissime garanzie in questo momento, forse vi dico De Frey e aggiungo Correa, anche se Correa da titolare è comunque schierabile in questa partita, ma è ovvio che se vi devo fare due nomi tra Lautaro, Correa, Dzeko e Lukaku, se ve ne devo fare tre, facciamo il nome che non vi faccio quello di Correa. Però poi potrebbe anche giocare, quindi diciamo che sono tutti schierabili, però degli attaccanti è quello che mi convince meno, è quello che mi dà meno garanzie a livello di più tre. Invece è interessante poi vedere quello che succederà nell'Inter, se ci sarà un calcio di rigore. Lautaro l'ultimo l'ha calciato molto molto bene. Nella Samp, anche qui fatico a trovare dei nomi veramente da consigliare, possiamo però dire che un Diuricic, se si vuole provare l'azzardo, potrebbe essere quello che va un po' a sparigliare le carte lì dietro nella difesa nerazzurra. Poi, io resto convinto che la Samp perderà, ma non che prenderà un'imbarcata, però andarvi a dire andiamo a mettere Audero, andiamo a mettere Collei, anche no. Io penso che la Samp andrà a costruirsi la sua salvezza in altri tipi di partite. Inter ovviamente favorita, ma non scontata la goleada. Ed eccoci al match tra Empoli e Atalanta. Un'Atalanta che deve ripartire dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio, e che può ripartire su un campo non facilissimo, ma sicuramente abbordabile per la squadra di Gasperini. Nell'Empoli sicuramente i tre nomi più schierabili sono più o meno sempre gli stessi. Parlo di Parisi, che comunque il suo lo fa sempre. Vicario, che potrebbe subire sempre qualche gol, ma che in ottica modificatore vi dà sempre delle ottime risposte. E parlando del settore offensivo, Destro forse al momento è l'uomo più in forma. Sul discorso trequartista non sappiamo ancora chi giocherà, però diciamo che lì poi bisogna valutare le alternative, come bisogna valutare le alternative in Casadea. Perché se da un lato giocatori come Cup Miners, De Miral e ovviamente lo stesso Lukman con Zapata sono nomi che difficilmente non andremo a schierare. Sarà ad esempio interessante capire se Pasaric effettivamente giocherà lì in mediana vicino a Cup Miners, o se invece giocherà trequarti. Pasaric è un nome che il suo bonus lo può sempre fare, però ovviamente anche la posizione può influire sulla sua prestazione e anche sul suo minutaggio. Sopì resta secondo me l'esterno su cui puntare maggiormente in questo momento in casa Atalanta, anche se non è ancora diventato quell'esterno che quando non fa bonus vi garantisce sempre un 6,5-7. Vi fa una partita dove vi fa due assist e prende 7 più 2,9, la partita dopo magari vi prende 5, ammonito 4,5. Quindi giocatore da alti e bassi, non da modificatore, ma soprattutto da difesa a tre. Qui vedo l'Atalanta abbastanza favorita, penso che possano arrivare i tre punti per la squadra di Gasperini, occhio però perché anche qui, un po' come vi dicevo prima, l'Empoli non è una squadra da imbarcata, quindi se l'Atalanta vince, per me la vince abbastanza di misura, credo che comunque la squadra di Zanetti abbia tutte le armi per in qualche modo contrastare il gioco di Gasperini che fin qui non è ancora riuscito a dare quell'entusiasmo, quella dinamicità al suo attacco come ha fatto più volte negli anni precedenti. Cremonese-Udinese. La Cremonese al momento è l'unica squadra che deve ancora fare i tre punti in campionato. L'Udinese in questo momento è invece la squadra che deve ripartire dopo una lunga striscia di risultati utili, è arrivato lo stop contro il Toro. Ecco, io credo che questa partita per l'Udinese sembra strano, ma potrei dirci tante cose, perché se l'Udinese riesce subito a ripartire dopo la sconfitta contro il Toro, l'Udinese quest'anno veramente può essere una squadra che si gioca all'Europa, magari non la Champions, però comunque un posto in Europa League lo potrebbe anche trovare. Se invece dovesse arrivare un altro stop o comunque un pareggio, allora l'Udinese potrebbe piano piano andarsi a ridimensionare. Pereira, Samarzic, De Lofeu, Beto, sono tutti nomi che se io avessi in rosa andrei a schierare, così come Udoji. In difesa dovrebbe tornare Becao, assenza pesantissima la sua la scorsa giornata, sia per l'Udinese, sia per Silvestri e per chi ha Silvestri al fantacalcio. Nella Chiamonese, Dessers, nonostante il rigore sbagliato, si conferma comunque come uno dei giocatori più pericolosi della squadra di Alvini. Valeri, così bloccato da Terzino, mi piace un po' meno rispetto a inizio campionato e paradossalmente invece mi piace un po' di più Serenicola, che rispetto a Valeri sta avendo più occasioni da bonus. Serenicola potrebbe essere un nome interessante all'asta di riparazione per tutti quelli che magari non hanno già Valeri all'interno della propria rosa. Anche questa credo sarà una partita abbastanza equilibrata. L'Udinese ovviamente parte favorita, ma credo che potrebbe anche arrivare un segno X. Non do per scontata la vittoria in trasferta per la squadra di Sottil. De Lofeu è una garanzia sotto tutti gli aspetti, puntiamoci. Beto deve tornare a segnare. Altro intreccio col passato italiano rincontra la sua ex squadra, lo Spezia. Una Fiorentina che in campionato sta facendo fatica, che sta provando tante cose diverse. Forse ha ritrovato quell'esplosività, quella pericolosità in chiave offensiva, ma non ha ancora trovato l'equilibrio corretto, perché segna di più, ma allo stesso tempo subisce anche di più. Quindi la lettura di questa partita è una lettura non facile. La Fiorentina, tra l'altro, sarà anche impegnata poi in Europa, dove sta invece andando meglio. Però, per vedere il tipo di partita che farà Spezia non facile, possiamo però dire che lo Spezia, in casa con la Fiorentina, può fare il risultato. Che se abbiamo giocatori come Enzola, soprattutto, ma lo stesso Olm, che sta davvero sorprendendo tanti addetti ai lavori, sono nomi che possiamo comunque schierare. Nella Fiorentina sarà interessante, non dico capire perché sarà impossibile, ma provare a ipotizzare l'undici scelto da italiano. Continuo a sostenere che se non si hanno grosse alternative, giocatori come Kwame, Cabral, lo stesso Icone, che finalmente sta tornando ad essere quel giocatore di cui avevamo parlato l'anno scorso, nella sessione invernale, che non avevamo ancora visto qui in Italia. Penso a Buonaventura. Insomma, sono tutti nomi che, io credo, possano essere schierabili. Certo, in questo momento, nella Fiorentina, purtroppo, non c'è il giocatore che tu dici, lo vado a schierare ad occhi chiusi, sempre e comunque. Vuoi, per il momento, un po' così di Nico González, vuoi, per il momento, delle punte, non si è ancora capita bene la gerarchia e o comunque ogni attaccante non ha ancora dato quelle risposte continuative per lungo tempo, non abbiamo il nome da mettere, appunto, a prescindere. Quindi squadra veramente abbastanza ingestibile in ottica fantacalcio. Qui, ragazzi, poi in live, a seconda delle alternative che, così, avete in rosa, valutiamo. Caso per caso. È inutile che ora vi dica Cabral da schierare, Iconeno, perché poi dipenderà, appunto, dai vostri ballottacci. Arriviamo poi a Lazio-Salernitana. Una Lazio che al 99,99%, ma direi quasi 100%, farà meno ancora di immobile. Una Lazio che, però, nonostante l'assenza di immobile, contro l'Atalanta ha fatto una delle migliori partite. Attenzione. Dico attenzione perché, se vi ricordate, è già successo in passato che un attaccante della squadra di Sarri, l'attaccante titolare della squadra di Sarri, venisse un po' meno, e poi Sarri si inventò quel Mertens da falso 9. Non sto dicendo che Felipe Anderson, o chi per lui giocherà lì, andrà a fare la stagione di Mertens, anche perché immobile tra poche partite torna. Sto però dicendo che Sarri, senza punta vera, ci sa giocare. E potrebbe anche essere più difficile per la squadra avversaria trovare dei punti di riferimento da marcare nella squadra di Sarri. E quindi un giocatore come Zaccagni, come Felipe Anderson e lo stesso Pedro sono tutti nomi che io qui andrei a schierare a colpo sicuro. Ovviamente Milinkovic, neanche a dirlo, si schiera sempre. Possiamo iniziare però a dare un po' più di fiducia anche a giocatori che magari a inizio anno non partivano, no? Con i favori del pronostico. Romagnoli, ne ho sempre parlato bene, ormai non ve lo dico più, per me è un top da modde e finisce qui il discorso. Provedel, lo vediamo tutti, ma anche un Lazri e anche un Marusic, in questo momento, in questa Lazio, sono nomi che si possono schierare a cuore leggero. Nella Salernitana, giocatori da schierare a cuore leggero, non ce ne sono tantissimi, invece secondo me Mazzocchi-Lazzari è il duello, secondo me, di questa partita. Mazzocchi si può schierare anche qui, anche se io lo vedo meglio in casa, però se non abbiamo grosse alternative è una scelta comunque che ci può stare. Buonazzoli di A, forse sarà nuovamente il tandem titolare. Piontek si è mangiato molti gol, ma ha avuto anche tante occasioni, cosa importante. Credo che in certe partite Piontek sia veramente l'unica punta che, insieme a Botein, che può occupare l'area avversaria, non mi meraviglierei di un loro utilizzo, anche in combinata, magari negli ultimi 15-20 minuti, Lazio nettamente favorita. Io penso che, al di là di quello che succederà in Europa, la Lazio qui con la Salernitana può davvero fare i tre punti e può soprattutto anche continuare a fare bene a livello difensivo, cosa da non sottovalutare, perché, come abbiamo spesso detto questa estate, al secondo anno di Sarri spesso la squadra fa molto meglio, soprattutto in chiave difensiva, perché il suo modo di allenare la difesa non è un modo semplice, immediato, ha bisogno di tempo e quindi ben venga il secondo anno di Sarri. Torino-Milan. Il Toro riuscirà anche contro il Milan ad avere quella solidità difensiva che, ad esempio, non ha avuto assolutamente contro il Napoli? Io credo che in questo momento il Milan sia molto più forte del Torino e che, anche se il Toro proverà a vendere cara alla pelle, io penso che il Milan possa andare a fare risultato in trasferta, possa vincere e mi sbilancio anche, credo che possa vincere con anche più di un gol di differenza. Sarà curioso capire se giocherà nuovamente Orighi o se verrà dato spazio nuovamente a Giroud in campionato. Sono contento dell'epifania di Orighi, perché va a confermare quanto di buono, avevo detto quest'estate, uno dei jolly più interessanti, se cui bisognava solamente avere pazienza. Credo che continuerà a fare bene, che sarà un fattore per questo Milan. Leao, vabbè, non ne parliamo neanche, come non parliamo ovviamente di Ternandez, nomi da schierare sempre. E comunque sarebbe invece il caso di parlare un po' di De Ketteler. Io ho visto tante partite nell'ultimo mese del Milan e io sono arrivato un po' alla conclusione che il problema, se si può parlare di problema in ottica fantacalcio, di De Ketteler in questo momento non è né un discorso tattico, pensiamo a quello che sta facendo Diaz in quel ruolo, né un discorso tecnico, perché pensare che De Ketteler sia scarso vuol dire non avere visto nulla di questo giocatore. Io credo che sia proprio un discorso mentale, cioè andatevi a vedere il gol che fa Leao la scorsa giornata con Teo che ruba palla, guarda in mezzo, vede Leao libero che si è smarcato, Leao segna. De Ketteler in quell'azione c'era, il problema è che non si è andato a smarcare per il gol. Cioè De Ketteler in questo momento, quando si attacca, non riesce a trovare lo spazio per ricevere il palla e andare a concludere. È bravo a dare là alle azioni, spesso, ma non ancora quella cattiveria che vogliamo tutti al fantacalcio. Il paragone non ci sta perché sono due giocatori molto diversi, ma se vi ricordate i primi tempi di Leao, succedeva un po' la stessa cosa. Cioè Leao spesso, in chiave offensiva, mancava di quella cattiveria che poi ha trovato con il tempo. Ecco, io credo che se De Ketteler riuscirà a fare quel salto mentale e anche a livello di posizionamento quando è il momento di smarcarsi, possa davvero diventare un giocatore importante. Inizio però a credere che probabilmente questo salto o lo vediamo a post mondiale o forse il vero salto lo vedremo l'anno prossimo. Non lo so. Anche qui se lo avete dipende un po' dalle alternative che avete in rosa. In casa Toro Vlasic schierabile, Lukic schierabile ma dipende soprattutto dalle alternative che avete in mezzo, Schurse schierabile ma rischioso, io vedo il Milan favorito. Quindi non andrei a puntare troppo sul blocco Toro. Poi ovvio che se mi dite io ho Derun e Radonic non so chi mettere vi dico Radonic, ok? Però in linea di massima squadra in questo momento il Torino che tolti due o tre nomi non ci dà tantissimo al fantacalcio. Penultima partita abbiamo Monza e Bologna. Arnautovic, certezza in casa Tiago Motta. Dominguez sta facendo bene. Barrow potrebbe tornare al gol. Cambiasso, Ciuria, bel duello se effettivamente giocherà Ciuria o se giocherà Brindelli vedremo ma anche interessante il duello dall'altra parte tra Poche e Carlos Augusto. Questa è una partita molto equilibrata secondo me. Palladino e Tiago Motta si giocano dei punti importanti in questo momento perché il Monza era partito malissimo poi è arrivato Palladino ha fatto nove punti poi è tornato un po' a perdere ma in partite dove oggettivamente secondo me l'avversario era superiore questa col Bologna secondo me ci può dire effettivamente che tipo di campionato potrebbe fare il Monza. Nel Bologna servono ovviamente i gol di Arnautovic che resta il perno fondamentale il punto di riferimento per la squadra di Motta però io credo che debbano iniziare ad arrivare bonus anche da altri giocatori cioè perché anche se Arnautovic fa 15, 16, 18 gol il Bologna ha bisogno di altri ha bisogno dei gol di Barrow ha bisogno dei gol degli esterni in difesa ha bisogno dei gol dei centrocampisti ha bisogno dei gol anche di Orsolini quando si degnerà a ritornare quel giocatore da 5, 6 gol insomma ha bisogno anche di altre bocche da fuoco ecco questa credo che sia una chiave importante per la squadra di Motta e invece per quanto riguarda la squadra di Palladino qui la gazzetta ci dice Caprari Pessina Gittkier io così vi butto lì un nome un Petagna che potrebbe tornare al bonus in questa partita qualora dovesse giocare un minutaggio accettabile non mi andrebbe a meravigliare poi più di tanto chiudiamo infine con Verona Roma anche qui ovviamente si tratta di una squadra quella di Mourinho che giocherei in Europa quindi direvi troppe cose sui nomi non ha molto senso però vi posso dire che la Roma in chiave difensiva è una delle squadre che mi ispira più fiducia questa difesa 3 che si prende qualche cartellino giallo di troppo ma che non è così facile da superare Verona Roma mi aspetta una partita da under onestamente sarei stupito di vedere 3, 4, 5 gol Henry sta facendo male poi ragazzi si tratta anche di momenti pensiamo alla scorsa giornata basta che la sfiora fa gol e ora parliamo di un Henry che è tornato al gol però in questo preciso momento nel Verona trovare dei nomi da puntare a colpo sicuro in ottica a fantacalcio io faccio fatica perché Tameze Faraoni Verdi sono nomi che potenzialmente sono da fantacalcio ma in questo momento non mi danno garanzie garanzie che invece mi possono dare nella Roma Spinazzola ad esempio Pellegrini Smalling ovviamente e poi ci sono due nomi che stanno deludendo è inutile negarlo ma che secondo me prima o poi arrivano Abra Mezzagnolo io su questi due nomi sarò abbastanza testardo ma continuo a credere che sia impossibile non vedere a fine anno al netto di infortuni un Abram da 15 gol e uno Zagnolo da 5-6 gol cioè per me da qui a fine campionato questa coppia sottolineo al netto di eventuali infortuni in coppia 20 gol li devono fare cioè non riesco a se andiamo a vedere i dati degli XG quelli della Roma sono veramente incredibili ok magari Abra Mezzagnolo non saranno i più lucidi sottoporta però per me è anche tanto il momento quindi io continuerei a puntarsi a questi due nomi Roma favorita e come vi ho detto partito da andare ragazzi grazie mille queste erano le 10 partite analizzate per la dodicesima giornata di Serie A oggi pomeriggio vi ricordo che ci vediamo su Stadeo mi raccomando scaricate qui l'app è gratuito poi entrate nel club il profeta anche quello è gratuito e già da oggi parliamo di consigli di formazione lì su Stadeo tramite dei vocali andiamo un po' a vedere chi schierare al fantacalcio questa giornata poi domani top 11 underdog Italia underdog resto del mondo live sia domani piattaforma viola sia qua su youtube sia sabato mattina se non ci sono imprevisti speriamo di no grazie mille ancora per tutto ciao e alla prossima mi raccomando like mi raccomando iscrivetevi buona giornata ciao